Eccolo qua, la belva umana. La belva umana sono. Allora. Senta, per risparmio energetico. Sì. Scusi. Perché adesso non mi ordini fagiolo alla scureggione, mi dici brutto stronzaccio a me? Perché mi è passata un po' la fame. Che era belva umana? Sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno che si ameri! Oh sì, bene, bene. Ricominciamo tutto da chi? Tutto. Replay. Replay. Com'è che ti chiami tu? Nome e cognome? Tu? Ora. Il nome è John Domenico. Il cognome è... Frecchia! Ho il nominetto. Bravissimo. E questi? Maledetto disgraziato. Chi sono, eh? Frank Cooper. Abduca Dula. Abraga Babada. E questi chi è se? Eh? Mi sembra che quest'ultimo chi è se è più familiare, mi sembra. Mi vuoi prendere per ridere te? Io no. Io ti voglio maltrattare. La polizia italiana non maltratta nessuno. Lo so. Sto maltrattando. No, no, anzi. Non l'ho neanche tocchata. È la giacca nuova. Dimmi come ti chiami, dimmi il tuo vero nome. Di tutti quelli. Facci lei. A suo gusto. Facci lei, mi ha detto a me. Io devo... Aspetta. Aspetta. Non ti muovere. No, no, no. Facci lei. Signor commissario. E si muovere via dalle palle. Stai sempre in mezzo, come il giovedì stai. Guardi che l'altra volta... Poi non ho capito perché continuo a farmi dei segnali strani. Che cosa vuoi dirmi? Dimmi. Silenzio. Eccole qua. Credetemi, ma quante volte ve lo devo dire? È un povero deficiente. Sì, lo vuoi coprire perché sei la sua amante. Io la sua amante? Ma io non mi farei toccare neanche con un dito da quell'invertebrato. Invertebrato? Invertebrato la belva umana? Magari fosse la belva umana. È una merdaccia. Le riconosci queste? Dunque, queste non ci vedo più. Ecco, così presa la sprovvista. Non mi puoi mettere sull'ostrodo? Sì, facciamo il quiz. Facciamo lasciare a doppio. Sono Anne Babette Brown. Le cevelle, le tue amanti. Le mie amanti, molto li, hanno le presenti. E qui le riconosci, belva? Eh, le riconosci? Ma questa è la foto di una contorsionista? Sono sempre le stesse, fetendone, che tu hai fatto a pezzettini con la lavetta e hai mischiato tutti i tocchettini per sviare le indagini. Oh, scusi, ci dispiace chiudere le valise? Mi fa un po' impressione. E allora questo? Questo chi è? Questo è... Eh? È fracchia, una pesta di carnevale. Levate quello di sotto! Si fa impressione, ci fa. E tutte le rapine con i morti non ti fanno impressione, vero? Otto morte e quindici ferite, rapina di Dusseldorf. Qui hai rapinato la Banca Nazionale del Lavoro, hai ammazzato quattro uscieri. E qui, tutte queste altre rapine, Cicinata, Atlantic City, Vienna. È questa. Hai rapinato pure quei poveri disgraziati di Lourdes. Avete rubato due autobotti d'acqua santa. Autobotti? Mi scusi, eh? Guardi che ci metto tutto in ordine, perché vedo che lei è molto disordinato, eh? Madonna! Madonna! Benedetta! Vedo che volesse. Credetemi, state prendendo un grosso granchio. È il più cretino dei miei colleghi. Telefonate, telefonate al caporeparto, al direttore, ai suoi colleghi. Verranno in 50 a riconoscerlo. Belvomena! Guardi che tu sei la belvomena, ma se io mi ingazzo divento brutto, divento! Ma il cuore che veramente c'è sulla buona strada... Ma forse, rispezzo la carotide, maledetto! No, 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 no! Levate-melo di sotto, levate-melo di sotto, levate-melo di sotto! Commissario, chi è? Permette un attimo? Levate-melo di sotto, condivo. Levate-melo di sotto, levate-melo di sotto! Levate-melo di sotto! La Corvino è sincera, commissario. E se questo non c'entra niente? Io lo farei in confronto. Come non c'entra niente, non diciamo cazzetto! Quale confronto? Questa è la belva umana, eh! Ma quale belva umana? Questo è un signore, non c'entra niente, si chiama Gian Domenico Fracchia. Quindi, caro De Simone, la mia idea del confronto era giustissima. Zitto e basta così. Capisce, Frecchia? Ci sarebbe cascato chiunque. Ci sono cascato io e tutto dire. La sua somiglianza con la belva umana è una cosa incredibile, non so. È una cosa... Si prende proprio due gocce d'acqua, uguale, uguale, uguale. Eh, uguale, uguale. Per favore, Fracchia, io voglio andare a dormire, ho sonno! Arrivederci. Arrivederci. Buonanotte. Ah, Frecchia? Sì? Scusi, per ragioni illegali, ho dovuto fare una piccola perquisizione alla sua macchina. Ha fatto benissimo. Arrivederci. Allora, Fracchia! Comissario, salve. Salve. Grazie. Grazie.